Ciao, sono Marco, detto anche un uomo senza tonno, e oggi per Lorenzo Vinci vi presento Giraudo, un laboratorio artigianale nato a Cuneo nel 1950, che produce specialità dolciare piemontesi. L'azienda è cresciuta negli anni, ma in tutto questo tempo non ha dimenticato i metodi di lavorazione artigianali di prodotti autotoni come la nocciola piemontese. Oltre a questo, oltre alla filiera produttiva, il metodo è rimasto manuale anche per l'impacchettamento. Infatti ci sono questi bei dolcini, che sono i cunesi al rum, che vi ricordano tanto quelli che mi dava mia nonna, anche se non sono piemontese, però era proprio così, con tutta questa carta colorata, impacchettata a mano. E oltre a questi cunesi al rum dall'incarto coloratissimo, l'azienda produce tavolette di cioccolato fondente, gianduia, delizia alla nocciola, tartufo bianco e tartufo nero, e i baci di cuneo, di cui casualmente ne ho uno proprio qua, e che potrete anche voi mangiare acquistandoli dal portale lorenzovinci.it. Io nel frattempo me ne ammucco uno. Buonissimo.